Halloween mi ricorda la morte, Gesù la vita. Halloween evoca l'oscurità della notte, Gesù la luce. Halloween mi fa venire in mente esseri mostruosi, Gesù suscita bellezza. Halloween ha a che fare con il terrore, Gesù è pace. Forse non ti interessa nulla di Halloween, e in realtà neanche a me, però bisogna ammetterlo, in questo periodo da qualche anno anche in Italia cambia la programmazione televisiva, cambia il tema degli eventi e cambiano le vetrine dei negozi. E tutti, in qualche modo, siamo condizionati da Halloween. Cosa sto cercando di dirti? Che questo mondo ruota intorno alle tendenze, tendenze di ogni genere. Ora, se la tendenza è morte, perché non rispondere vita? Se la tendenza è il tetro, perché non rispondere luce? Se la tendenza è mostruosità, perché non rispondere bellezza? Se la tendenza è horror, perché non rispondere pace?